Lo SWI Prolog, una volta che si è stato installato in maniera completa, mette a disposizione una specie di ambiente di sviluppo integrato che si ispira in qualche maniera all'ambiente di sviluppo IMAX che fu sviluppato negli anni 80 e 90 da Richard Stallman. Per poterlo utilizzare dobbiamo lanciare il goal IMAX ed ecco parte l'ambiente che ci faciliterà ovviamente sia la scrittura che l'interpretazione dei programmi, nonché anche il trace come vedremo, sarà possibile farlo anche in maniera grafica, cioè il trace poi vedremo sarebbe il debugging di un programma dichiarativo. Allora andiamo a cercare il file che contiene l'esercizio che stiamo sviluppando secondo le slide del professor Braco, era nella directory prologue, eccolo qui, abbiamo quindi, ci ricordiamo, stiamo sostanzialmente veramente alle prime armi, abbiamo definito questi due predicati che descrivono il nostro mondo, adesso vorremmo cercare di, abbiamo visto come è possibile ricavare le coordinate x ed y della posizione di un blocco qualora esso sia visibile, adesso vediamo se è possibile come andare a vedere, a calcolare la coordinata z, cioè l'altezza, la posizione di altezza del blocco. Quindi però per far questo abbiamo bisogno di definire un nuovo predicato che implementi le regole che utilizziamo per andare a definire appunto l'altezza di un blocco. Noi per esempio possiamo dire questo, che la coordinata z, possiamo introdurre un predicato z che ha due argomenti. Il primo argomento è il blocco e l'iniziatore del blocco, il secondo argomento è appunto la coordinata in altezza, quindi la z in cui si trova il blocco. E potremmo a questo punto, dobbiamo andare a definire questo predicato utilizzando un approccio appunto dichiarativo. Quindi questa è la prima volta che vediamo come si può concepire la sviluppo di un programma dichiarativo, ovviamente l'esempio è di una semplicità ed un'essenzialità elementare. E quindi normalmente i predicati che, la definizione di predicati che implementano, che vengono utilizzati all'interno di una programmazione dichiarativa, molto spesso hanno una struttura ricorsiva come quello che stiamo per vedere. E cioè sono compositi da due o tre clausole, o due o più clausole, una delle quali, almeno una delle quali servirà per terminare una refutazione che avrà una struttura ricorsiva. Infatti questo è il caso perché la posizione di un blocco in altezza possiamo definirla sostanzialmente in due modi. Un certo blocco sarà a livello zero, cioè a livello, e quindi utilizziamo la costante zero, la costante numerica zero per definire questo livello, sarà, dicevo, la costante zero se si trova sul pavimento, sul tavolo, in base alla costante table che abbiamo già utilizzato nel nostro programma. Cioè, questa come si legge? Si legge così, se un blocco, qualunque esso sia, questa ovviamente una variabile, è sul tavolo, allora la sua coordinata z è zero. Altrimenti, se non è questo il caso, un certo blocco si troverà a una certa altezza, z, se esiste un blocco su cui lui si trova, e la coordinata dell'altro blocco è, diciamo, z, altro, e infine se z è la somma di z, altro, più uno. Cioè, vogliamo dire questo, che un... l'altezza di un blocco la si può ricavare anche così, leggiamola in altra maniera. se esiste un blocco, un altro blocco su cui il blocco di cui vogliamo calcolare l'altezza si trova, e se l'altezza di quest'altro blocco è una certa altezza, e z è questa certa altezza più uno, allora proprio questa z sarà l'altezza del blocco che stiamo cercando. quella che abbiamo appena visto è la definizione di un predicato ricorsivo perché è presente sia nella testa, sono presenti sia nella testa che nella clausola due o più letterali che hanno il medesimo predicato qui abbiamo z e qui abbiamo z e quindi questo è un predicato ricorsivo perché è un predicato ricorsivo? Che c'entra la ricorsione con la programmazione dichiarativa non c'entrerebbe niente, però questo è il momento in cui introduciamo il concetto di interpretazione procedurale di un programma ricorsivo abbiamo visto nella prima parte il corso di intelligenza artificiale che queste altre non sono che clausole, clausole di Orna in particolare quindi rappresenterebbero la traduzione in clausole di una formula quindi di una affermazione di natura dichiarativa però possiamo riguardare le stesse clausole e danno un'interpretazione procedurale possiamo per esempio dire questo soffermandoci alla seconda clausola della definizione del predicato z potremmo pensare questo che noi stiamo dicendo all'interprete prologue stiamo dando dei comandi in qualche maniera e cioè dei comandi che hanno una forma imperativa e quindi cioè stiamo sostanzialmente dando un'interpretazione procedurale imperativa a quello che dovrebbe essere in teoria una semplice elenco di clausole quindi un elenco di formule quindi una espressione puramente dichiarativa gli stiamo dicendo per calcolare l'altezza di un certo blocco essendo z questa altezza fai così cerca prima di dimostrare che questo blocco sta su un altro blocco poi vai a calcolare l'altezza di quest'altro blocco e poi semplicemente fai così calcola z prendendo questa prendendo questa altra altezza che hai già trovato aggiungendoci uno e la quantità che otterrai come risultato di questa operazione aritmetica restituiscila come risposta al goal che ti è stato dato in pratica è come se noi stessimo lanciando un comando e in pratica l'interpret blog altro non fa che sviluppare una serie di passi che abbiamo visto finora essere passi di risoluzione però li possiamo anche interpretare come operazioni di istanziazioni di chiamate di variabili di funzioni e queste funzioni vengono chiamate passandogli dei parametri e se ci sono dentro delle variabili la funzione qualora l'atomo che corrisponde a quella funzione in questa ottica procedurale avrà successo in quella variabile o in quelle variabili che fanno parte dell'atomo e che in quel momento non sono istanziate restituiranno dei valori ecco quindi che cosa adesso dobbiamo fare per vedere mettere alla prova innanzitutto salviamo il buffer sul file e poi possiamo procedere alla compilazione del buffer allora il buffer è stato compilato e quindi possiamo provare a vedere adesso cosa succede se noi lanciamo ad esempio un semplice goal mettere in evidenza così sarà facile eseguire diamo il goal dicevo trovami l'altezza del blocco C lanciamo il goal mi restituisce nella variabile che ho passato a secondo argomento di questo goal l'altezza del blocco C che cosa è successo in pratica è successo che se noi la guardiamo come dobbiamo effettivamente guardarla come semplicemente un'implementazione di una refutazione SLD quello che è successo è che abbiamo lanciato questo goal questo goal ha unificato con la prima clausola della divisione del predicato Z perché era la prima che ha trovato C ha unificato con blocco per meglio dire blocco ha unificato con C e alt la variabile alt ha unificato con 0 la costante 0 dopodiché è stato lanciato il risolvente on c table on c table ha unificato con questo on c table e se si è prodotta la clausola vuota la computazione ha restituito la risposta calcolata alt uguale 0 altro modo per dire la stessa cosa sarebbe stato per commentare in quello che è successo sarebbe stato dire per provare che C ha una certa altezza cerchi innanzitutto di vedere se C sta sul tavolo in questo caso l'altezza sarebbe 0 si vedo che C sta sul tavolo e quindi restituisco che l'altezza è 0 l'interpretazione procedurale di questa seconda clausola qui che abbiamo detto è clausola ricorsiva appunto mette in luce appunto il concetto di chiamata ricorsiva perché in pratica quello che stiamo facendo è che c'è una funzione una funzione cioè un goal interpretato proceduralmente sarebbe equivalente al lancio di una funzione io lancio una certa funzione che poi dopo all'interno del codice della funzione lancia se stessa ecco perché si chiama ricorsiva questa il concetto di predicato ricorsivo nasce dall'interpretazione procedurale e non dichiarativa ovviamente di un programma prolog quindi un programma prolog può avere una interpretazione dichiarativa che è quella naturale quella da cui deriva però può anche avere un'interpretazione procedurale che è quella che poi i programmatori tendono in qualche maniera a mantenere nella loro mente e normalmente i programmatori prolog tengono molto più a mente forse non so se sto dicendo il vero però tengono forse più a mente l'interpretazione procedurale piuttosto che l'interpretazione dichiarativa è stato tanto criticato il prolog nel corso dei decenni appunto perché non era non è perfettamente adatto per poter concepire una programmazione puramente dichiarativa però su queste cose ci torneremo quando avremo appunto occasione di ritornare su questi concetti abbiamo visto un esempio semplice in cui il gol unifica semplicemente con il tappo della ricorsione se però andiamo a calcolare la posizione del blocco A che si trova su B che si trova su C e non essendoci nessun predicato che dice che A sta sul tavolo quando unificherà con questo gol con la testa di questa clausola si unificherà però dopo il predicato on at table fallirà e per cui si dovrà andare alla seconda clausola e se noi lanciamo il gol Z a alt la variabile alt viene unificata con la costante numerica 2 come è possibile è possibile perché quello che è successo è questo che A ha unificato con blocco si è andato a cercare un blocco su cui A si trovasse altro blocco altro blocco si è trovato perché ha unificato con questo predicato qui è B e a questo punto si è andato a calcolare l'altezza di B quindi si è lanciato di nuovo il predicato Z B virgola Z altro ha provato questo predicato a unificare con la testa non ci è riuscito perché B non era sul tavolo e quindi di nuovo ha unificato Z B altro con questo qui si è trovato un blocco su cui B si trovava che era C e l'altezza di C sarebbe altezza altro blocco di nuovo si è lanciato Z altro blocco cioè Z C Z altro e questo qui come abbiamo appena visto C residisce come altezza 0 dopodiché la Z viene unificata con 0 più 1 a questo punto con il meccanismo classico della ricorsione si deve andare indietro per per backtracking e quindi abbiamo che l'altezza di B diventa l'altezza di C che è 0 più 1 e l'altezza di A diventa l'altezza di B che sarebbe 0 più 1 cioè 1 più 1 e quindi alla fine vi è restituito Z 2 ok e possiamo anche qui mettere un punto interrogativo punto interrogativo semmai un punto un punto e virgola cerchiamo soluzioni alternative cioè provochiamo il fallimento della soluzione trovata non ci sono altre soluzioni cioè quello che abbiamo appena definito Z è un predicato composto in due clasole una al tappo delle ricorsioni della prima una la clasola ricorsiva della seconda e che per come è definito è un predicato deterministico non ammette cioè più di una soluzione in pratica qualunque gol Z che venisse lanciato genererebbe un albero con una sola un solo ramo terminante con successo bene allora a questo punto terminiamo e andiamo avanti con la prossima lezione grazie a tutti